Allora, tutti i giornalisti sembra che se la siano molto presa con il Movimento 5 Stelle perché ha detto che noi siamo delle puttane e siamo degli infimi sciacalli. Io faccio giornalista da una ventina d'anni e in effetti devo dire che la critica del Movimento 5 Stelle nei confronti dei giornalisti la trovo più che condivisibile, va bene? Più che condivisibile. Poi mi direte, ti senti una puttana e uno sciacallo? Non lo so, io ovviamente ognuno di noi non si sente né puttana né sciacallo, Ma si può dire che i giornalisti dalle mani pulite in poi hanno usato, come posso dire, un minimo di correttezza professionale nel sentire anche l'opinione di chi viene indagato dalla magistratura? Ci accorgiamo oggi che i giornalisti raccontano con le intercettazioni beccate dai tribunali anche le minime questioni private che riguardano i politici della Prima, della Seconda e della Terza Repubblica? Soltanto oggi abbiamo capito che i giornalisti in prima pagina sbattono il mostro con titoli che poi quando il mostro non si rivela tale, penso magari, vi ricordate? Quel medico spacca ossa che in realtà poi sembra che il processo ridica che non è avvenuto quello di cui lo si accusava. Insomma, poi dopo noi da sciacalli diventiamo, come possiamo dire, un po' che ci dimentichiamo quello che abbiamo scritto. Questo va tutto bene, quindi va bene, puttane e sciacalli, però una sola cosa mi viene da dire, possono dare delle puttane e sciacalli proprio quei politici e quella forza politica che ha goduto e che è nata grazie a questo clima che i giornalisti puttane e sciacalli hanno creato in Italia? Proprio quei giornalisti che hanno raccontato Mani Pulite, poi hanno raccontato le furberie, poi l'evasione, poi il nero, cioè che hanno esagerato in molti casi e hanno drammatizzato quello che probabilmente avviene ma non nella misura in cui è avvenuta. Proprio quel partito politico che ha detto intercettateci tutti, proprio quel movimento politico che ha detto se non fai del male non devi aver paura ad avere tutta la tua vita privata spiattellata sui giornali. Ecco, proprio loro adesso si lamentano quando sono al governo che i giornalisti sono puttane e sciacalli esattamente come lo sono stati e con quel clima che ha reso possibile la loro vittoria elettorale. Insomma, la Raggi è diventata sindaco di Roma, ve lo ricorderete, sui ristoranti, sugli scontrini, sulla macchina panda rossa che era stata trattata dai giornalisti, forse con maggiore attenzione rispetto alle schifezze, da un punto di vista politico, che ha commesso la Raggi nella gestione del Comune di Roma. Insomma, noi saremo puttane e sciacalli, ma loro oggi sono gli ultimi a poterlo dire. Ciao!